Novità per il traffico in piazza Dalmazia a causa dello spostamento dei cantieri della tramvia lungo proprio la piazza. Per almeno una settimana le fermate degli autobus vengono spostate all'altezza del ponte sul Terzolle. Dopodiché, quando si prevede il 16 gennaio, il mercato verrà spostato sulla piazza. Le fermate si sposteranno di nuovo in via Rifredi che, svuotata del mercato, si riaprirà alla viabilità anche se con il senso di marcia invertito. Lo spostamento del mercato nell'altro lato della piazza doveva avvenire già in ottobre a conclusione dei lavori di rifacimento della piazza. La data del 16 gennaio, questo fa sapere Palazzo Vecchio, è stata presa in accordo con gli ambulanti insieme al nuovo posizionamento dei banchi alimentari e di quelli di generi vari. Chiacchiere sono tante, ufficialmente non sappiamo niente. Veniamo da 60 anni di questo mercato con una copertura che a livello europeo ce l'hanno praticamente tutti. e sentiamo parlare di non avere né la copertura né l'impianto elettrico. In via di Rifredi, dove adesso è il mercato, sono previsti anche una quarantina di posti per la sosta a rotazione e per il carico e scarico merci. Il problema del cantiere è che i disagi ci sono senz'altro. La problematica più che altro è su un discorso che non abbiamo parcheggi. Io ieri pomeriggio era aperta per la prima domenica dei saldi e avevo praticamente le macchine parcheggiate tutte sopra a marciapiede perché la gente era al cinema e non sapeva dove metterla. Lo spazio hanno fatto che c'era prima la cassa di risparmio che dovrebbe andare nel mercato e ieri sera c'erano tutte le macchine parcheggiate dentro.